È il Roseto ad esultare e aggiudicarsi la finale playoff del campionato di promozione contro il Rocca Sicura. Il gol che vale l'eccellenza arriva all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare, ad arbitrare la gara il signor Meo della sezione di Isernia. Al tredicesimo minuto vediamo il Rocca Sicura con Fraraccio per Vacca che tenta la conclusione ma la sfera è alta sulla traversa. Al sedicesimo il Roseto ci prova Contusiano che non inquadra lo specchio. Al ventesimo c'è Fraraccio alla conclusione che però non crea problemi a Ciurci. Al trentatresimo Melilo direttamente dalla bandierina a cercare il secondo palo ma Ciarlone di Pugni allontana. Al trentaquattresimo Di Gregorio da calcio d'angolo per la testa di Scampamorte ma ancora nulla di fatto per il giallo-blu e sullo 0-0 si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Al terzo minuto conclusione di Vacca e palla alta. Al ventesimo per il Roseto assist di Tusiano Mamelillo manca l'impatto e Ciarlone blocca. Al trentasesimo il calcio piazzato di leva è di un soffio fuori. Non bastano i due tempi regolamentari per sbloccare il risultato. Occorrono i supplementari ma i primi 15 minuti trascorrono senza brividi. Al primo minuto del secondo supplementare ci prova il neo entrato Ercolano che manda di poco fuori. Battute finali, cross di Giannini, tutto il Roseto in avanti, anche Ciurci il portiere che di testa trova la traversa. Sul rimpallo arriva Cagiano che insacca il gol che vale una finale, una stagione e la promozione in eccellenza. A Rocca Sicuro ovviamente resta un gran rammarico ma non è tutto perduto per l'accesso in eccellenza.